Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calciomercato, è domenica, è il primo weekend ufficialmente d'estate, molti di voi saranno al mare, qualcuno sarà in montagna, qualcuno in piscina, qualcuno sul lago, qualcuno a divertirsi, beati voi, beati voi, però insomma, è domenica ma qualcosa si sta muovendo, qualcosa di importante, un grande addio, un addio eccellente di quelli che fanno rumore, un campioncino all'orizzonte e poi nel menù c'è qualcos'altro, ma non voglio svelarvi tutto, altrimenti uno poi schippa, va avanti e non ci ascolta, quindi poi mi fa le domande dicendo quella cosa non hai detto, no, in realtà l'avevo detta ma evidentemente qualcuno ha schippato e ha saltato quel pezzo, innanzitutto per chi fosse capitato oggi per la prima volta qui sul mio canale che esiste da tre mesi e mezzo, beh, se vi piace, se lo gradite, se vi fa piacere potete iscrivervi, tra l'altro lo dico sempre è gratuito, quindi perdete un secondo, cliccate sopra ma fate per noi cosa sei gradita, in alto a destra la campanella che potete attivare per avere tutte le notifiche in tempo reale su ciò che viene prodotto e mandato online. Da cosa partiamo? Partiamo dall'Inter, partiamo dall'Inter perché sono ore decisive per un clamoroso addio, un addio eccellente, clamoroso per la portata perché in realtà era nell'area da un po' di tempo che potesse essere questa l'ultima stagione, ma Marcello Brozovic e l'Inter sono pronti a salutarsi. Area di divorzio, anzi più che area siamo veramente dal notaio a mettere le ultime firme, il giocatore ha in mano un'offerta clamorosa, dall'Al Nasr di Cristiano Ronaldo, Arabia Saudita, 20 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni, sono 60 milioni netti più tutta una serie di premi e di benefit e di bonus. L'Inter guadagna 6,5 più 1 di bonus, totale 7,5 per altri tre anni, fate voi i conti, sono 22 milioni e mezzo contro 60, praticamente il triplo, non c'è storia. Non c'è storia perché anche l'Inter ha messo in preventivo la cessione di Brozovic, ecco siamo passati nell'ultimo anno da Brozovic che era il pilastro, il cardine dell'Inter, l'insostituibile, l'imprescindibile, a metterlo addirittura sul mercato e accederlo, e tra l'altro non ha una cifra clamorosa, 22-23 milioni, l'Inter ne voleva 25, loro non volevano andare oltre i 20, come al solito intesa metà strada, l'ultima offerta è 22, l'Inter è scesa 23, ma tra oggi e domani si chiude. A meno che Brozovic nella notte non abbia un ripensamento, lui sperava nel Barcellona, un intermediario italiano insieme a Deco l'aveva contattato telefonicamente un paio di volte la scorsa settimana, ma il Barca gli può offrire lo stesso stipendio dell'Inter, 7 milioni a stagione per i prossimi tre anni, massimo 8, certo resti in Europa, ma soprattutto il Barca non può offrire soldi all'Inter, può offrire il massimo degli scambi, quindi insomma oggi è molto complicato questo colpo di scena, ma anche se magari il Barca farà un tentativo in extremis, ma la strada porta all'Arabia Saudita, porta all'Alnaz, porta a giocare con Cristiano Ronaldo, porta a fare una scelta di vita, certo un giocatore del livello di Brozovic, che qualche settimana fa comunque ha fatto la finale di Champions, che quest'anno ha giocato anche la finale di National League con la Nazionale Croata, vederlo andare in Arabia Saudita si piace un po', insomma. Tanti campioni stanno andando, quindi là il livello si alzerà, ma si impoverirà quello del calcio europeo. Questo va detto, l'Inter ha bisogno di soldi, perché? Che l'Inter con questa operazione, la cessione di Gosens, attenzione a Union Berdino che in pressing nei prossimi giorni si può sbloccare, vuole avere il tesoretto per evitare il rilancio del Milan e portare a casa Davide Frattesi, col quale l'Inter ha già un accordo da 2 milioni e mezza stagione per i prossimi 5 anni. L'Inter poi è a riprese col caso Lukaku, perché? Perché il Chelsea non fa sconti, il Chelsea vuole 40-50 milioni cash, no prestiti, cessione, solo a titolo definitivo, al limite prestito oneroso con obbligo. Queste le condizioni dei Blues, che sono furibondi, che hanno perso 50 milioni di pounds, quindi al cambio 65 milioni circa, al cambio in euro ovviamente, 65 milioni circa, da Lalilal, che oltre a Koulibaly vuole fare l'accoppiata con Lukaku, Big Rom ha detto no, vuole tornare in Italia e restare all'Inter, però l'Inter lo deve acquistare. Con che soldi? Bella domanda. Dalla cessione di Onana può arrivare il tesoretto, perché? Perché il Manchester United prepara un'offerta a 50 milioni per Onana. Inter ne vuole 60, se arriva questa offerta devi prendere il sostituto, Marc Maggio Vili del Valencia, di Gregorio del Monza, Musso dell'Atalanta e Sommer del Bayern sono i quattro nomi in lista su cui stanno ragionando in casa Nerazzurra, nessuno di questi dovrebbe andare oltre 15 milioni per il cartellino, quindi per cui, insomma, poi ti rimangono in tasca un quarantello abbondante, spera l'Inter, che possono essere i soldi per riscattare Lukaku. Quindi questa è l'idea e progetto del club Nerazzurro. Attenzione però perché Milano Nerazzurra chiama la Milano Rosso Nero, che Milano adesso deve dare una risposta sul mercato, proverà a fare lo sgambetto su Frattesi, attenzione però, attenzione però a un altro aspetto, un altro fattore importante. Ardagouler, il Milano sta facendo sul serio, ve lo stiamo raccontando, il nome che vi avevamo fatto in anteprima, ma non mi interessa adesso perché ovviamente adesso tutta Europa ne sta parlando, quindi fa piacere aver trovato tante conferme. La cosa importante è un'altra, è che il Milan ha fiducia, però qualcuno dirà aveva fiducia anche su Turano, è vero, è poi stato sorpassato. Quindi in questo caso qui c'è una concorrenza veramente spietata, c'è mezza Europa, però il Milan è tra i pochissimi club che propone al giocatore un luogo da titolare, un luogo da protagonista, perché se vai al Barcellona, se vai al Real Madrid, se vai al Liverpool, se vai all'Arsenal, se vai al Manchester City, se vai al Real Madrid, al PSG, quanto giochi? Poco. Milan e Borussia Dortmund sono le uniche strade dove puoi essere protagonista. Oggettivamente i campionati italiani oggi attira di più Ardagouler e la sua famiglia ci sta lavorando come intermediazione Raffaella Pimenta, il Milan fa sul servo, perché il Milan pagare la causa non ha un problema, 17 milioni e mezzo, in mano il tesoretto derivante dalla gestione di Tonali, deve convincere il giocatore. Sul piatto un quinquennale da 2 milioni a stagione, un buon sarà firmo ovviamente, sotto forma di commissione per la famiglia, il Milan spinge, il Milan spinge, previsti nuovi contatti tra domani e dopodomani, è una pista questa che si può infiammare e surriscaldare. Detto dell'Inter, detto del Milan, il Milan ovviamente non si può non parlare di Juve, perché? Perché anche in casa Juve ci sono novità importanti. La prima, l'avete capito, ve l'ho raccontato nel video di ieri, Allegri non va in Arabia Saudita, non c'è nulla di concreto, c'era un'offerta 15 giorni fa che lui ha rifiutato, dopodiché tante voci di concreto, nulla. Però Allegri sta lavorando con Giovanni Manna per convincere Adrian Rabiot a restare, e se Rabiot dovesse accettare il rinnovo per un altro anno, secondo me sarebbe un vero e proprio colpo di mercato. Poi ho dei dubbi sul perché Rabiot debba accettare, ma qui faccio un altro tipo di discorso, cioè mi metto nei panni di Rabiot, io ho fatto benissimo, la mia miglior stagione della carriera, 11 gol, li rifaccio l'anno prossimo, sì, forse ne faccio 15, forse ne faccio meno. Farò meglio, farò peggio, e se faccio peggio, tra un anno sono ancora a scadenza, non ho le offerte di adesso, però qualcuno mi dice anche, attenzione, perché non è che poi Rabiot anche quest'estate abbia tutte queste offerte, ed è forse il motivo per il quale lui sta valutando anche la possibilità di rinnovare. Ma la Juve, se il Rabiot ha offerte o non ha offerte, interessa relativamente, la Juve interessa che il Rabiot dica sì. E quindi saranno giorni, in tal senso, importanti. Poi c'è Matteo Toniozzi, per chi non lo sapesse, Matteo Toniozzi è il capo scout della Juventus, è il capo degli osservatori, ed è in Romania, non in vacanza, ma a seguire l'Europa Under 21. Sta seguendo tutte le partite per visionare, monitorare i migliori talenti, oggi era vedere anche Italia Svizzera. Occhi puntati su Fabiano Parisi, e il destino a volte ci mette lo zampino, perché Parisi ha segnato il suo primo volco da Maglia dell'Under 21, sotto gli occhi della Juve, che è molto interessata a Parisi, che in settimana farà fare le visite mediche a UEA Junior, UEA Junior da una parte, Parisi dall'altra, questa è l'idea. Occhio. Grazie per essere stati in mia compagnia, appuntamento a domani con un altro video di mercato, tutte le trattative in discrezioni, condividete il video, spammatelo ovunque, fatelo vedere ai vostri amici, cugini, zii, parenti, trisavoli, genitori, chi più ne ha più ne metta, lasciate i vostri commenti, e ditemi la vostra, vi piace Parisi per la Juve, siete concordi con la blindatura di Rabiot, in casa Milan, insomma, fa bene Milan puntare così forte su Ardaguller, e poi invece l'Inter, insomma, Lukaku, vale la pena spendere i soldi per prendere il titolo definitivo sacrificando Nana? E Brozovic, cederlo, alla fine poi arriverà Frattesi, vi piace, vi convince questa mossa, o forse rischia di essere un rimpianto tra qualche mese, aspetto i vostri commenti, le vostre domande, insomma, come al solito, poi io vi rispondo anche volentieri nei commenti qui, e ovviamente, mettete like al video, ma soprattutto iscrivetevi al canale, come dico sempre gratis, più siamo, meglio è, e più ci divertiamo, quindi, tutti sul canale, a domani, ciao a tutti!